Sono Carlo Vietti, il sindaco del Comune di Druento. Sono venuto oggi a parlare col Presidente Saitta per sviluppare le programmazioni del territorio in considerazione dell'accordo di programma che abbiamo firmato col Presidente della Regione Ghigo per la valorizzazione della Regia di Veneria. E' importante questo incontro per la programmazione e soprattutto per le scelte che noi andremo a fare e che abbiamo fatto insieme con la provincia che riteniamo fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio in prospettiva. Ringrazio soprattutto oggi la disponibilità del Presidente che è sempre molto sensibile con i suoi assessori sulle tematiche che investono nel nostro territorio. Grazie.